Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi siamo al Sacrario di Joki Yu. Tira fuori il coraggio. Il Sacrario si trova nelle terre di Akkala, vicino allo stallaggio di Estakkala. Tiviamo il timbro. Ci arrivate dalla torre del Colle Ultri e andate qui, in alto a destra della mappa. Ragazzi, questo Sacrario, dobbiamo tirare fuori il coraggio, è strano, è strano. Però l'hanno fatto bene, mi sono divertito a risolvere il mistero. Allora, vediamo un secondo di capire come funziona. Innanzitutto, là c'è una cesta nascosta che non avremmo dovuto vedere. Però, questa è una super torre, ci serve quella sfera lì da mettere là dentro. E poi dobbiamo prendere quell'altra cesta, quindi sono due ceste in tutto. Allora, innanzitutto, se facciamo cadere... Ve lo faccio vedere, ragazzi. Usiamo l'ultramano, facciamo... Se tiriamo fuori questo, cade la torre. Uh! Ho visto la palla che andava da qualche parte. Comunque non funziona. Si resetta. Allora, dobbiamo prendere due pezzi in maniera tale che non cade la torre. Tiriamo fuori... Prima questo, eh. Ok. Ce la portiamo un secondo qua sopra. Facciamo salire. Andiamo qua. Passiamo giù. Ok. Facciamo reverto. Fermiamo. E prendiamo il primo scrigno. Naturalmente, ragazzi, se il video vi è piaciuto vi è stato aiuto e lasciate un like. Aiutate tantissimo il canale. Ok. Perfetto. Poi, riprendiamo sempre questo pezzo qui, però non con reverto, ma con l'ultramano. Una cosa che non vi ho fatto notare prima è che ci sono... C'è il generatore di corrente qui e c'è quest'altro interruttore. Quindi, mettiamolo prima qua che è meglio, eh. Prendiamo un po' di corrente da qui e la mettiamo qui. Adesso, dobbiamo tirare fuori un altro pezzo, ragazzi. Quello ci vuole un po' di coraggio. Quello è il pezzo della... Proviamo a tirare fuori quello, eh. Vediamo se riusciamo a tirare fuori... Ma no, non funziona. Lo scrigno mi sa che è caduto. Ok. Lo scrigno è caduto. Ok. Non fa niente, ragazzi. Adesso questo lo mettiamo qui. Facciamo fare contatto. Ok. Ed è partito la piattaforma. Intanto che la piattaforma vettano indietro. Vediamo se riusciamo a prendere lo scrigno là fuori. Da quello qua. Lo mettiamo qua. Qua dopo lo prendiamo. Andiamo sulla piattaforma. Ok. Dalla piattaforma riusciamo a prendere la sfera. Dovremmo riuscire a prendere la sfera. Gioco. Non ti permettere. Ta-da! Se posate la sfera, dopo la torre non si resetta più. Lo scrigno però penso che si resetta sempre la posizione. Zonanio grande. Grazie. Il tutorial finisce qui. Noi ci diamo appuntamento nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao! 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 Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!